salve ragazzocci scusate ragazzi non so fare l'intro ma signori oggi oggi vi beccate due video questo mattutino e poi vabbò ovviamente più tardi faremo un po' di gaming ma tipo vabbò gaming comunque tipo hunger games no infatti si faremo bis hunger games ok vi ho già spoilerato quindi si gaming un po' pigrotto ma ragazzi dopo un anno del genere dopo tutte quelle serie che sono andate a morire sono rimaste incomplete purtroppo va così che ve posso dire ma signori oggi oggi signori abbiamo una reaction molto speciale signori esiste una lista di youtuber pericolosi vabbò avete già letto poldo ma dovete sapere che questo è l'unico video della playlist di poldo youtube lore a cui ancora non abbiamo reagito cos'è youtube lore? è sta playlist dove praticamente ci sono tutti i video appunto sulla lore di youtube e come vedete 4 di questi video ne abbiamo reagiti quest'anno 2 ne abbiamo in realtà 3 ne abbiamo rireagiti anzi no 2 ne abbiamo rireagiti 1 l'abbiamo rireagito ma cioè l'uno l'abbiamo reagito due volte quest'anno e anche in realtà anche il primo l'abbiamo in realtà anche un altro l'abbiamo rireagito vabbò perché avevo perché ripeto avevo filmato la reaction quando era uscito però poi letteralmente non avevo attivato l'audio e quindi si andatevi a vedere quella reaction è molto bella ma signori quel video là dei 10 youtuber di cui forse ci siamo dimenticati ad un certo punto poldo diceva che spoilerava quello che sarebbe stato il prossimo video ovvero signori e signori appunto questo qua sui youtuber pericolosi un anno fa è uscito questo video quindi si un anno fa quindi è molto spicy signori io direi di iniziare quindi l'unico video che ci rimane da reagire di quella playlist è appunto questo qua di poldo ci sarebbero altri video a cui reagire ad esempio che ne so c'è il video sullo scambio di Harry Potter che ancora non ho reagito ma ci sono ancora video da reagire però poi devo mettere anche un po' di gaming no ma quindi si io direi di signore e signori iniziare con questo video qua contenuti di questo tipo non hanno alcun va allora cos'è ah il melagodo cazzarolla poldo in quel video che vi avevo appena che vi avevo detto dei 10 youtuber di cui forse ci si sono dimenticati aveva detto che non era fan della melagodo quando era piccolo ricordiamocelo poldo da piccolo da piccolo poldo era più uno di quelli che ripeteva morion john 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 guardando c'è anch'io ma era bicchiere di petrolio guardatevi la mia reaction perché guardatevi anche il video di poldo ovviamente non facciamo i narcisisti non vengono trasmessi contenuti formativi e istruttivi per i ragazzi no un pessimo esempio per fieric un pessimo esempio utilizza un tra l'altro tra l'altro curiosità ero indeciso oggi se reagire o a o al video o a questo video o al video di fieric su su tipo perché i youtuber stanno perdendo views alla fine ho scelto questo qua poi che ne so per un altro giorno sarà la reaction a fieric cioè ragazzi lion potrebbe essere forse l'hanno fatta tipo quando lion era ancora uno youtuber non per bambini tipo 2015 2016 no avere il G50 italiano che ovviamente è motale vaga vago i lavori sono altri muratore polizio aspetta vabbò mica stare seduti al pc per tante ore di fila digitare continuamente scadenze che ti stressano è un lavoro no no infatti non mi viene in mente nessun lavoro del youtuber impiegato d'ufficio beh in realtà poi che ne so puoi anche adattarlo ad altri tipo che ne so col portatile è letteralmente che ne so comunque questa felpa è un alibi una sorta di alibi perché voi non dovete sapere cosa c'è genere siamo nel 2023 ragazzi ormai il lavoro dello youtuber è stato quasi normalizzato persino dire youtuber è obsoleto ma si parla di content creator perché si parla a realizzare contenuti indipendentemente dalla piattaforma beh allora allora io per un periodo facevo facevo ero su tiktok però non facevo mai cos'è diciamo non lo so non sono un content creator boh non lo so ma vabbò Berlusconi left game il mio codice a teco attività i prunzi c'è Andrea Salvatore Leopoldo Minecraft Enchanting Table Language Parisi Registri Successi Universo P100 la clip di Boris ragazzi mamma mia la monnezza che ho fatto salutiamo il buon Francesco Pannofino morco giuda i giornali hanno smesso di rompere il cazzo mira si noto youtuber e fate il fisco per un 3 milioni di euro così il mondo degli adulti non smette mai di rompere le balle sempre puntare il dito contro noi generazione del web perché non facciamo niente guardiamo i cartoni giochiamo ai videogiochi stiamo tutto il giorno con il telefonino le solite stronzate che per quanto vere rimangono sempre così sul generale che non c'entrano mai il punto della situazione anzi lo scavalcano per attaccare ogni errore che viene commesso giornalismo ragazzi comunque di queste cose qua cioè concetti tipo quello della censura lo abbiamo cioè lo abbiamo già visto l'ho imparato quest'anno abbiamo reagito a apriamo gli occhi abbiamo reagito a quei video là di apriamo gli occhi sulle censure nei cartoni quindi si youtube se è vero te lo giuro youtuber fa incendente a Roma vittima di un bambino anzi no aspetta ecco ora youtuber famoso ricco entra qui cioè sapete la cosa che fa spaventare di più gli adulti quando si parla di internet è che è totalmente libero nonostante negli ultimi anni è stato molto pulito è comunque possibile ritrovarsi un giro che ha che era il modem stacca 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 se stai su internet da dieci anni quando ti trovi su un sito pericoloso annusi la puzza da qualche parte e lo eviti lo sai infatti ma ci ci sono alcune cose che non vanno cliccate ma i bambini oh mio dio possono rovinarsi la crescita perché nessuno pensa ai bambini togliamo qualcuno pensi ai bambini ecco qua sta cazzo di clip qua che però i ragazzi è proprio praticamente mi scatta sempre ogni volta che si parla di cose del genere cioè perché mica bisogna spiegargli come distinguere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato no no passiamo direttamente a fare una di contenuti positivi e di contenuti da cancellare dal mondo ed è qui che entra in gioco un acronimo ovvero MOI MOI il Movimento Italiano Genitori è un'associazione di promozione sociale impegnata nella protezione e nella tutela dei minori si tratta di un'associazione che per la maggior parte fa azioni poco criticabili roba impegnata socialmente bla 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 ma agli occhi di molte persone questa associazione non è altro che quel movimento di genitori che vuole censurare i cartoni animati giapponesi per impedire ai bambini di schiantarsi al suolo per avere emulato il movimento tridimensionale dell'attacco dei giganti eh cazzarolla ripeto il concetto che abbiamo visto nei video reagendo ai video di apriamo gli occhi diciamo che molta gente non ama il moige per la sua posizione su alcuni temi primo tra tutti la sessualità e per promuovere valori incredibilmente cattolici che palle per molto tempo sono stati additati per essere quei classici genitori rompicoglioni che non ti fanno giocare a GTA San Andreas o che addirittura lo so GTA 5 Dr. X lo saltavano la morte dei personaggi dei film disney una delle cose eh aspetta lo so ho scelto la morte meno orribile eh cazzarolla però Inside Out che era un film è da tempo che non me lo guardo cazzo sarebbe io mi son visto Inside Out 2 cazzarolla è veramente cioè quest'anno cioè Pog una delle cose peggiori che puoi fare ad un bambino tra le varie trovate del moige però voglio concentrarmi su un evento annuale che prende il nome di un anno di zappi un anno di zappi un megadocumento che viene realizzato ogni anno a partire dal 2006 fino al 2023 l'ultima letteralmente di qualche settimana fa ma di cosa si tratta? è sostanzialmente una guida cartacea che ha come scopo quello di classificare il mondo degli intrattenimenti ok benissimo Pog Mr.Poldakbar iNubChannel CiccioGamer a Barbascura Extra il crew vabbò sì poveri bimbi a cui viene dato un telefono in mano H24 affinché stia zitto ironico vero sì ci concentreremo sui loro giudizi su alcuni creator ignorando il mondo della tv pomeriggio 5 vorrei fare un video intero insultandoli per aver definito Drag Race Italia volgare però c'è cose come pomeriggio 5 voi magari ricorderanno il video di Mark D'Ammer dove risponde ah cazzo Mark D'Ammer eh cacchio il buon Marco il Martello e la parte finale ah sì ti aveva parlato alla fine del video dello special ciao 2020 sì me lo ricordo che menzionava queste queste lamentele qua pog no no sì vabbò che tra l'altro un po' e tra l'altro c'è il fatto che sei emiliano e letteralmente c'è sembra sembra napoletano c'è un po' roba come non mancano mai doppi sensi parolacce e battute demenziali che rendono questo canale davvero un pessimo esempio bla 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 elevandosi a giudice ipocrita laddove è lui il primo a rappresentare un pessimo esempio oi che è incapace di produrre contenuti degni di questo nome è un influencer vivamente sconsigliato capace solo di far perdere tempo e sinapsi sinapsi scherzare l'olio scherzare l'olio si infatti il bidoncino del trash bidoncino del trash dopo aver sorvolato sul nome incredibilmente cringe le altre categorie sono faccetta triste per la roba che è meglio evitare faccetta media per ciò che lascia il tempo che trova faccetta sorridente per contenuti positivi faccetta nera no no mi dissocio scusate per la roba educativa e il premio moige per la roba veramente di qualità che trasmette valori importanti come magari fare un'offerta alla chiesa dai basta sto scherzando basta iscriviti al canale tra le pochissime edizioni che sono riuscito a recuperare non molte purtroppo anche se ho provato a scrivere al moige che mica ce l'avete i pdf tutti ho raccolto una lista di 167 creator che sono stati giudicati chi bene e chi allora Joe Pizzi ah si vabbò Angelo Greco cazzarolla grande Angelo che tra l'altro pubblica ancora Angelo Greco ehm eh sì è ancora attivo nonostante cazzarolla credo siamo passati tipo tre anni da due ma tipo tre anni da quando andavano di moda i meme su di lui cazzarolla cioè mi ricordo ancora Angelo eh eh cosa essere calabresi secondo Angelo Greco o il video di Angelo Greco che fa sei né un bastardo né non è un reato è lui che teneva la mano alzata di un perso e diceva il nome di un personaggio che è eh andiamo avanti da questa associazione demoniaca pro family friendly ovviamente non posso parlarvi di tutti quindi anoto Giovanni Storti Frank Gramuglia Giuseppe Mandraguinino sceglierò solo quelli di cui potenzialmente creare un dialogo costruttivo questo perché in realtà molti creator sono stati giudici su Albion non importa molti creator sono stati accettati bene secondo voi quali sono i creator valutati meglio ovviamente quelli che fanno video per Pampini in particolare i me contro te hanno ottenuto una stella mentre i me ok eh cazzarolla concetto di insieme sono cloni di me contro te specificato di più nel video sui film con i youtuber italiani nulla di strano soprattutto perché anche Geopop ha ottenuto un ottimo riconoscimento ah ci sta tantissimo Geopop cazzarolla ovvero il premio che visto che è uno youtuber colto ovviamente io non me lo guardo perché io sono perché voglio solamente sbattere la testa nel marmo ma qua gioco in casa perché adoro i canali di divulgazione e li adora anche il mod bov solamente ma in realtà io mi ricordo che mi guardavo Famiglia Suricata quando ero più picco però c'è ma tipo ma ora mi riguardo tipo i video che ne so anche Barbascore che ne so io diciamo mi guardo tipo i video su su tipo i riassuntazzi tipo su cioè sì sono sono un po' nerdo ok e ora lo so che mi becchiano un sacco di commenti negativi ok ragazzi io studio ok bene benissimo come Marcello cioè Angelo Greco una volta mi disse non ne vado in tasse vado dal fisco eh ragazzi cazzo Angelo Greco sarebbe da mettere in Hunger Games poi con sto con sto fisico cioè Surry una volta disse mi hai mai visto in un sogno abbiamo visto quel video quest'anno tra i tanti video memorabili che ci siamo visti Riccardo Doze positivo io Riccardo ah va bene Riccardo lo scambiamo per no mi devo prezioso è quello di Fumagalli porco giusto non so cosa si siano fumati per mettere lui positivo e i DF nella categoria neutro ma c'è tutto a posto insieme ai DF continuo a non comprendere perché i DF cioè che è sono degli youtuber che fanno degli esperimenti quindi cioè eh bella bella gianda davvero qualcuno provi a spiegarmi vogliono eh si eh si bella bella gianda eh no davvero qualcuno provi a spiegarmi perché Riccardo Dose è considerato più positivo di Ciccio Gamer 89 ma non lo so eh ma Ciccio ma puoi anche vedere l'edizione perché vabbò Ciccio ad un certo punto non so se Ciccio dovrebbe essere non lo so ok ma i DF ma soprattutto perché sono insieme a Erfaina che dove eh cazzarolla Damiano Erfaina deve avere una categoria cattivo esempio per l'umanità solamente solamente perché ha partecipato perché partecipa tipo CW Sport o quei programmi o quei programmi la Twitter hai rovinato il calcio porco giuda anche TikTok social boom ok eh sì vabbò ma vabbò effettivamente però Bello Figo ragazzi almeno almeno c'è le canzoni tipo vabbò ragazzi Bello Figo è un esempio di It's so bad it's so good cioè mentre Denis Dosio no il primo ha un contenuto descritto come video riguardanti temi sconci e di bassissima lega ecco perché in questa lista la bassezza più totale a cui l'essere umano può arrivare se privato della sua dignità niente bro mi dispiace però almeno se stai facendo indignare sta gente vuol dire che eh la Mussolini cazzarolla eh non pago fido personaggio funziona benissimo Denis Dosio vabbè sì le patatine le patatine che si è ficcato so per il buco del eh pe 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 per in non c'è nemmeno bisogno di spiegare perché sta qui alcuni più scontati come social boom e l'ercio.it l'ercio.it cos'è l'ercio.it cosa? troviamo alcuni oh però social boom ragazzi cioè io giuro devo guardarmi un video che parla dell'intero drama di social boom l'ercio.it ah sì ehm ah sì è quello è uno che fa è tipo un giornale che fa notizie notizie diciamo ironiche tipo che ne so juventus si infortuna anche la mascotte cioè eh eh credo abbastanza tranquilli me la godo viene condannata per le parolacce oh no oh no le parolacce oh no le parolacce mica è importante il messaggio finale sono le parolacce il problema censurato ha fatto sospenda trasmissione c'è dottor vendetta che va boh è petente però parli che vi basta anche se di recente ha fatto video un po' più per bambini ovvero scattare un meccanismo nel cervello che mi ha portato a urlare cosa a partire da crazy mad crazy mad vi ricordate no quello che regalava le case alle barbone anche se in realtà era sua nonna c'è ragazzi per il suo canale pensi ok questo fa video per ma il porco giuda ma il moge se ne esce con una pletora di scenette pantomima valori e gesti di generosità solo per acchiappare qualche visualizzazione lo sai moge hai ragione ma che cazzo ho letto oppure ancora charlotte è charlotte temme c'è una tipa che fa da padrona al cringe di youtube kids a tal punto da fare gadget per età compresa dagli 0 agli 1 anni fino a fare un cazzo di film c'è megalomania portami via ma porco giuda un cazzo di film ma secondo il moge i bambini non devono vedere i suoi video perché l'importanza dei beni materiali prevale sempre madonna santa il giorno in cui metteranno me diranno il modo in cui costringe la gente a iscriversi al suo canale letteralmente ti ricrola e dario moccia e poi c'è lui l'essere finale colui che la gente considera il mio cerrimo nemico solo perché non capisca cosa voglio dire interpretare un personaggio paca l'attore tra l'altro ragazzi il video il video di poldo contro i fan di laio vgf la reaction a quel video la arriverà a fine anno arriverà in uno degli ultimi giorni dell'anno coroniamo coroniamo questo incredibile anno di reaction ecco qua ragazzi c'è quella clip di Marco che spacca l'uovo di Pasqua porco giuda in realtà tutto quel video là è incredibile ragazzi c'è c'è capace di dettare regole diciamo che il moj conta come lente per la protezione dei diritti degli ecco qua tra l'altro video che non ho reagito perché vabbò non è forse sì è qualcosa a cui potrebbe essere interessante la reaction anche anche il video dei giocattoli del mcdonald's non ci ho reagito perché ma io mi ricordo quando forse io mi ricordo quando i giocattoli del mcdonald erano figure ma io mi ricordo forse qualche qualche volta in realtà sono appena tornate i giocattoli del mcdonald che non sono fatti di carta alleluia che sta rilasciando le cose di mario kart quindi il mcdonald ha ricevuto il tuo messaggio tra l'altro quel video là è stato no non è stato l'ultimo forse è stato uno degli ultimi sì è stato è stato il video il video dopo è stato appunto quello sui oscar di youtube italia i web show awards che vabbè ragazzi credo che quel video sia stato uno dei punti che ha cambiato il canale veramente credo credo cioè da quel non lo so veramente sono veramente è stato un gran bel video mi ha introdotto ad un nuovo mondo quel video i miei video però a volte credo sia necessario sfruttare la capacità di parlare a un grande pubblico soprattutto quando si parla di un tema che mi sta a cuore come internet moige davvero ti parlo a tu per tu io e te sono già pronto con l'editor di youtube a togliere tutte le parti in cui vi sfotto perché so che non capite l'importanza dell'ironia e del cazzeggio che caratterizza internet volete proteggere i bambini smettetela di mettere questo petro opaco davanti i loro occhi perché così non li preparate mica al mondo che li circonda quando li lancerete a 18 anni nel mondo esterno si troveranno spaesati sfruttate il tempo che state usando per guardare oltre 300 programmi all'anno da giudicare per insegnare ai vostri figli il mondo così com'è senza cancellare ciò che non vi piace i bambini non sono del cazzo di bamboline inanimate senza capacità di ragionare ci state trattando peggio dei cani perché quelli se istruiti a dovere riesci anche a fargli fare un backflip i bambini è grande anche se prebrisco le scimmie sono stupidi ci vuole solo tanto impegno ma loro capiscono e da grandi avranno il giudizio di capire da soli ciò che è giusto e ciò che è sbagliato perché il family friendly è importante come il 2 di coppe quando la briscola è di denari io non ho capito io non gioco a carte volto purtroppo fine porca troia ci sono tutti tranne me ok moige io faccio sesso con le formiche sesso con le formiche vabbò signori tra l'altro Poldo ha fatto un'intera live dove reagisce e tra l'altro mi consiglia pure perché i vegani odiano i videogiochi che video video a cui purtroppo non reagiremo perché non non ce l'ho voglia ma signori ma noi che vi posso dire ci vediamo più tardi con Younger Games ci vediamo faccio sempre il la post il il gesto delle mani degli hippie basta mi dilungo un'intera live